Siamo in compagnia di Marco Volpe, con lui oggi andiamo a conoscere alcuni servizi importanti dell'Agenzia Roma Servizi per la Mobilità, parliamo di TaxiWeb per i tassisti. Marco, quanto è importante questa piattaforma? Sì, TaxiWeb è una piattaforma digitale che abbiamo rilasciato in produzione il primo giugno scorso e consente ai tassisti e agli operatori dei servizi del trasporto pubblico non di linea di gestire autonomamente la propria licenza da remoto, senza la necessità di interfacciarsi con il nostro sportello al pubblico. È una sostanziale novità rispetto a quello che accadeva fino al 31 maggio scorso, quando invece i tassisti per fare qualunque tipo di operazione necessaria sul proprio titolo dovevano recarsi presso il nostro sportello. L'emergenza sanitaria che tutti noi purtroppo stiamo vivendo ci comporta la necessità di evitare assembramenti. TaxiWeb, rispondendo positivamente anche a quelle che sono le indicazioni del legislatore nazionale, fa proprio questo, digitalizza e consente a tutti di non muoversi da casa per operare con il proprio titolo. Bene, per quanto riguarda invece il car sharing, quali sono le caratteristiche del car sharing di Roma Capitale? Allora, il car sharing di Roma Capitale è un car sharing cosiddetto a postazione fissa, ossia ci sono degli stalli di sosta, circa 300 riservati sul territorio romano, in cui i nostri clienti possono trovare le nostre vetture, noleggiarle, avere certezza poi di poterle riposizionare al termine del noleggio. Non hanno quindi la necessità di avere tempo per parcheggiare la vettura. È un plus che noi diamo rispetto agli altri servizi di sharing e in più, in aggiunta, consentiamo anche di ridurre i tempi di spostamento circolando sulle corse preferenziali. È previsto un rinnovamento della flotta? Sì, noi abbiamo un parco auto che ammonta 200 vetture circa, siamo impegnati nella sostituzione integrale di queste vetture, da qui a fine anno prevediamo di quindi innovare sostanzialmente il parco auto e andiamo verso un parco principalmente con motore a trazione ibrida, quindi per la sostenibilità ambientale abbiamo deciso di dotarci di questi vetture. Grazie a Marco Volpe per le preziose informazioni. Grazie a voi.